Si chiamano molti partiti, giocano, mischiano le squadre, giocano, non portano niente, si può diventare, non fatevi male, si può diventare... Vicky, stai sull'avampiede che dirai duro. Attacca la Samo Campo Piccolo. Edo, Edo, ne hanno un bacio a prendere. Ti metti il corpo, dai, ti amo arrivati bene. Uno attacca l'altro protegge, Mase dovete lavorare di squadra e due baglie. Sole, libera, spazio, Sole, non stai a fermo. Vado, avanza, avanza così. Volete, volete, lascia la palla, siamo in inferiorità, ci hai fatto una corsa gratuita. E' una gara, senza palla, porti fuori, portalo fuori. E' una tornata, oh, e fai tutto bene. E' una palla, e fai tutto bene. Dai, vada, altra destra, valla, fai tutto bene. E' una palla, fai le porte, corrono, veloce in andando, che stai dentro, così, che trascuta. Aiutami, mamma, sole, sei andato di là, vai, allunga, 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 allunga. Vole, devi avanzare e portarvi all'avversario. Allora, innanzitutto, allora, spogliatevi, a prenderevi. Apriti sole. Vole, forza, eh. Dagli pressione, baglie. Siete in due dentro, puoi andare, puoi andare, baglie, dai pressione sul pallone. E tu, tirati su veloce. Vole, proteggi, ma se ci, muovi, muovi. Preparati, bravo, ma se ci, indietro, ti metti in diamorale, guarda a porta. Venge, preparati da aprire l'angolo, che di qua arriva, eh. Ti inserisce. Magli agli spalle di base, bravo. Guarda con Mase, baglie. Mase, metti giù, veloce. Davanti, davanti. Venge, avanti. Davo Caprettini, in grigetta. Portalo fuori, portalo fuori. Portalo fuori, ok. Ok, resti. Portalo fuori, se non te ci fai uscire. Non ti sei scoprendo? Non ti eleni? Guarda bene. Carlo, Carlo. Uomo, attaccato. siamo attaccato il più alto Benjamal in genere è morto tocchano Naga tocchano voglio stare vicino dentro l'arabe porti tocco bravo guarda i veloci prendi posizione di là ci penso Benjamal C'è il campo a vigile per portare avanti, forza a pagli avanti. Qui sbaglio, quello è tuo, fermate il compito lì dentro, vi giocate il duello. Calma ora, eh Romain, avanza Capri, avanza! Porta la via, vai lì! Masera, siete fiaffi, uno deve venire incontro, l'altro deve portare via. Quando la palla la mette, fate il movimento. Carlo, mettiti davanti, grani, abbassati, grani, abbassati! No, su quella sinistra! E mi libero, bravo, va, vai a sostegno d'Agostino, bravo! Staccati, dagli sostegno, cerchiamo di sviluppare da lì! Bravo, pure! Carlo! Buona, Simo, non andare in attismo, lascialo fare. Calma! Oh, arbitro, non può! Non è quella, la giocata! Volete, metti giù, metti giù, metti giù! Quando rifarto così, se non ci arrivo sulla palla! Non è quella la giocata! Vieni! Apre, ma, Maru, apriti! Amma, apriti! Dai, 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 guardi! Prendi posizione, Capre! Vieni dentro! Brane! Bravo, bravo, Amma, bravo, Masi! bianca vieni a darci la mano questa è la soluzione avanza vai Carlo guarda chi lo mette laggiù fermati siamo al centro un'un in meno qua dietro Grane metti questa falla Edo fai la corsa guardando la palla ai difensori a proteggere lì sull'attaccante centrale Vaglie vai a prendere il posto Amma devi stare aperto abbiamo già due dentro Oh Grane ci sei? Svegli e allora attivati un po' bravo va bene va bene va bene bravo Caprettini giocca Carlo guarda e occhio senza fallo giù con le spalle vedo puoi andare stai vicino non ti deve girare Carlo apporto aperti buonasera pagliati Carlo davanti grane e passa stai davanti Carlo bravo vai dalla parte stai aperti di qua e di qua e di qua prendi posizione alza sta testa e Samu quel giocatore libero liberiamo Samu non c'è una soluzione vantala a giocare capito? quando lui va incontro Baglie ti muovi alle sue spalle ma pronto riceve non è che ti può guardare Carlo vuoi andare Madre? bravo 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 è stata la linea va dietro è dietro Baglie è una parata sei dietro di lui devi andare uno avanti uno dietro oh marciare vai di vicino Maru metti il braccio sopra stavamo bene portalo fuori Simo portalo fuori avanti 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 in avanti in avanti bravo Piesto va fuori vai fuori vai fuori fai fuori fai fuori fai fuori fai fuori fai fuori Piesto gioca gioca sempre occupa bene lo spazio in avanti forte bravo sole uno vai uno vieni quando ripassano dal portiere o tu o madre siete quelli che facciano ci state schiacciatevi dentro mi partono facili Samu preparati sul capitale chiamati un compagno davanti a lui resti dai 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 avanza non serve niente Carlo davanti l'altro fa la soluzione lascio lui lascio lui uno che va in contro e l'altro si muove alle spalle poi è pronto anche a ricevere edo 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 bravo che ti muovi alle spalle l'ho pronto a ricevere bravo 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 si raga bravi state andando da la stessa parte uno va e l'altro scappa calma lì si mori rispondi sul campo vai vicino bravo preparati bene, bravo Benjamal bravo balle, portalo fuori, portalo fuori bene, bravissimi, bravi, bravi li hai difesa bene bravi vai tempo, d'acqua bravo 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 avanza costa linea accetta 1 contra 1 la mattina vai su 17 accetta 1 contra 1 grane, ce l'hai dentro, grane la sinistra la sinistra vai fuori senti Iago vai a prepararti stai più in ferro stai più in ferro preparati Iago preparati quando Benjamal sale devi proteggere grazie bene bravo grazie bravo Benjamal bravo Benjamal bravo, Benjamal spingalo fuori nella arguments bravo Benjamal dai mia di qua vieni bravo Acompagnalo fuori. Sì. Calma. Bravo, base. Bravo, base. Gattoria. Va bene, pole, ci sta. Bravo, c'è stato l'avversario. Resta lì vivo. Va bene, va dentro. Calma, siamo, siamo. Stai aperto. Stai, si apre. Laumà, possiamo giocare. Possiamo giocare. Perché ci sono di più alla vita? Apri, dipendela. Apri, dipendela. Non era il regno passato. Sì. Gioca. Grane, abbassati. Bravo, base. Calma. Bravo, finà. Verso fuori. E Mase ci usciamo. Tiago, non giochi, vai. Ci sono gli avversari. Vai, amo, che c'è. Vai, amo, che c'è. Sì, Mase. Metto a ballo. Prendi posizione, baglia e portalo fuori. Calma. Bravo, Capre. Calma. Bravo, vi hai dato la pressione giusta. Torna a posto, Capre. Capastino. Va bene, va bene, va bene. Vai. Tiago, devi controllare vicino e poi partire in conduzione con tanti toni. È sempre quello. Il primo controllo. Vai. Tiago, fai un passo. Mi ha detto interessante. Quanto è passato? Samu, mettiti davanti. Mettiti davanti. Ok? Uno davanti. Ma ora puoi andare. È qua che devi dare la mano. Vai, Tiago, vai, Tiago. Masera, c'è già Baglietti. Vieni dentro. Tiago, stai stretto. Stai lì, Tiago. Tiago, stai stretto. Di qua. Sole, di qua. Calma. Ti la giù. Calma. Occhio carino. Brava, vai forte adesso. Vai forte, accelera. Accelera. Ok. Vieni la distanza. Non uscire. Bravo. Calma. Tiago, ma forte. Ma tienila. Calma. Baglietti, dobbiamo muovere per ricevere. Masè, bravo. Porta via. Vai, Baglietti. Vai in contro. In diavoniale. Vai, Baglietti. Vai, Paglietti. Carlo, apriti adesso. Carlo. Prima. Vai oltre. Masè, vai oltre. Papi, dovete muovere lì dentro. Forza. Edo, se vai in anticipo, metti il corpo e la tieni. Bravo, un'altra. Scusami, sei davanti. Metti il corpo e ti fa fallo. Io ho fatto questo stelto. Guarda, rimani dentro di Baglietti. Guarda, mi chiamalo. Io, Maglia. Mamma, mi chiedi tu. Vai a battere tu. Vai a battere tu. Vieni. Ognuno mi più là. Mamma, prendi le ricevi. Baglietti, proteggi dentro. Baglietti. Baglietti, rimani dentro. Ci siamo a cena. Portalo fuori. Portalo fuori. Non far fallo. Lasci uscire. Santo di un Dio, ma sei dormendo? Sei dormendo? Mazera, Bognesi, ricordatevi. Metto laterale. Uno rimane lì, uno protegge lì dentro. Che nostro. Tagli a piedi. Edo, venite tutti qua. Forza. Vai forte, vai forte. Accendo. Preparati, Pigni. Guarda che si alza, eh. Preparati sull'uomo. Vai, andiamo, andiamo, andiamo. A scompagna, mande. Andiamo, a scompagna. Andiamo. Passi la metà, la metà. Andiamo a scompagna con la forza. Edo, la metà. Edo. Edo, la metà. Caprettini, se l'uomo si abbassa... Vai, ando. Caprettini, questa è quella lì. Ci stiamo in duello, vai avanti. Lavo, quando fai messo il fondo, qual'è la parola più pericolosa? Lavo, quella più pericolosa di io sostegno. Lavo, lato. Oh, marcatura, eh. La bottina ne hai due, parla. C'hai l'otto davanti e sui dici niente. Cosa facciamo? Beh già, prepari. Sei al cento, che sei davanti al secco. Quanto siamo di tempo? Grani! Eeeh, sto contro... Che minuto, eh? Che minuto, eh? 18. Abbiamo provato a giocare, non è il problema. Quello che dobbiamo provare a fare è muoverci di più di dentro. La prende. Se non puoi ricevere, porti via l'avversario. Lavo, viene a prenderla dentro. Quell'altro, traiamo la soluzione. Dai Yama, dai Yama che la prendiamo. Yama, vale! Diciottesimo primo tempo, gol di Monte, da fuori aria, tiro, gol. 1-0, chisola. Carlo! Dai Lavo, prendi posizione. Capri occhio, eh. Se lui rimane alto, lo vai a prendere, accetta il duello. Vai, Monte! Vai, venti. Davo, avanza, Davo, vieni dentro! Avanza! Davo, stia la testa! Non andare a sbattere! Bravo! Madonna, santa, oh! Quanti errori, quanto li patisco! Vai dentro, Alla! Quanti li patisco, questi errori tra le linee e le linee. Davo! Non cammi tirando. 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 Dai Capri. Trovo, non puoi spara dentro, non puoi più di forza! Vito dentro! Stai lato, stai lato! Stai lato, stai lato! L'hai lato! Tu ne hai lato! Stai lato! Stai lato! Stai lato, stai lato! Resti! Dai Carlo che c'è! Stiamo vedendo! Stiamo vedendo! Veloci! Vai! Avanti, vai lenti! Avanti! C'è Matera! Oh, uno c'è! Resti fermo! Stiamo, sei troppo avanti! Vai, vai! è per terra bravo bravo